Un sabato mattina qualsiasi in centro storico, se molti aquilani nel fine settimana raggiungono le seconde case al mare, già è presente un discreto movimento turistico all'Aquila. Molti si fermano di passaggio per una giornata, ma sta prendendo piede anche la vacanza in città più lunga, spinta dalla presenza di borghi di prestigio nel circondario del Gran Sasso. Il dato però è che all'Aquila si arriva non più solo per curiosità del terremoto, ma anche per la promozione fatta in questi anni e per le bellezze di una città piena di storia. Certo, la curiosità per quel che è stato rimane. Da dove viene? Dalla Miata, siamo della Miata. Come mai ha scelto di venire qua a vacanza qualche giorno? Perché eravamo di passaggio, era sul Gargano con l'armare con la mia famiglia e abbiamo deciso di fare una giornata qui all'Aquila. Come l'ha trovata? Ne ha sentito parlare sicuramente per il terremoto? Come le ha sembrata? 9. Ecco, si vede i segni del terremoto, si vedono, sono chiari, però si spera che col tempo ritorni al suo splendore di una volta all'Aquila. Da dove viene? Da Roma. E' qui per vacanze? Sì, parenti qui vicino. Com'è l'Aquila? Lei perché insomma sceglie di venirci? Comunque è una bella cittadina, fa sempre piacere fare una passeggiata qui nel centro. Si trova bene a livello di servizi, monumenti? Sì, sì, assolutamente sì. Da dove venite? Da Belgio. Com'è l'Aquila? Molto bello, però vediamo le conseguenze del terremoto. Che giro state facendo? Solo l'Aquila? No, un giro di due settimane degli Abruzzi. C'è anche chi l'Aquila ha la scelta per studiare e rimanerci, come una studentessa che arriva da Trento, non proprio dietro l'angolo, e che Reteotto incontra casualmente per strada. Una bella testimonianza di com'era la città quando è arrivata e di com'è oggi. Da Trento, vicino a Trento. Santa, cosa pensa della città? Come l'ha trovata? Lei vive qui ormai? Io vivo qui da nove anni e sicuramente è cambiata molto, nel senso che la prima volta che sono entrata c'erano i militari per l'accesso in centro. Adesso è piacevolmente vivibile. È vivibile per una studentessa, insomma, si sta bene? Sì, molto.